Musica Allora, vedi Stadonà, un 3-0, insomma, un po' giudizio, documento sulla partita? Beh, è stata una partita tosta, 3-0 che comunque poteva anche essere un 3-1 perché comunque loro, a parte il primo set, comunque hanno giocato una buona pallavolo noi il primo set siamo partite fortissimo e penso che abbiamo vinto nettamente e meritatamente poi loro sono cresciute, abbiamo magari rallentato forse anche noi un po' il nostro ritmo e hanno comunque tenuto porta per bene, quindi alla fine è stato molto combattuto, la fine del terzo set quindi bravi noi, bravo Marco a fare il cambio in corsa per Sara con Laura del Chema per il muro e il muro ha portato bene perché comunque Sara è molto forte, quel fondamentale e sono contenta che comunque abbia messo un puto anche lei a riferto Benissimo, Marco, oltre alla scelta tecnica, cosa ha avuto in cui Novara oggi secondo te? Novara, secondo me, già anche nella partita scorsa sta dimostrando che ha tanto cuore questa squadra perché comunque ci sono tanti giocatori, siamo molto unite e giochiamo tutte quante per lo stesso obiettivo quindi anche Marco ha la possibilità di far entrare qualcuno anche per dare solo fiato quando è uscita Varun comunque era per dargli un po' di fiato è entrata Peters e comunque avere tante soluzioni è positivo e lavorare tutti per lo stesso obiettivo è una bella cosa quindi vuol dire che questa squadra andrà molto avanti Mi ha stupito da appassionato che è stata partita di core, non di singoli cioè da scrittura di gruppo, di corale, tutti insieme Certo, ci sono forti rivalità in questa squadra però io credo che se giochiamo di collettivo ci divertiamo di più Laura del Chema ha la possibilità comunque di variare tantissimo il gioco e se lo varia si divertono tutti perché ha tante boche da fuoco vorrei fare tanti auguri di buon compleanno per Camilla che con i miei 18 anni e bocca al lupo, mi hanno detto che giochi un po' alla volo quindi bocca al lupo per le sue partite e speriamo di vederci al palazzetto, ciao!